Benvenuti nella Galassia Rattix. Crossover elegante e versatile, Volvo XC40 usata è la scelta perfetta per te. Immatricolata a marzo 2022, è in ottime condizioni e pronta a offrirti ottime prestazioni grazie alla sua innovativa e sostenibile alimentazione ibrida. Con 33.181 km certificati, Volvo XC40 si presenta in un sofisticato nero, un colore che aggiunge un tocco di classe e modernità. Il cambio automatico e la trazione anteriore garantiscono una guida fluida e intuitiva, mentre gli interni spaziosi e raffinati ti avvolgeranno in un'atmosfera di lusso.